Buonasera a tutti, benvenuti qui. So che siete qui per caso, quindi siccome so che non mi conoscete ci tengo a darvi alcune note biografiche che prendo direttamente dalla mia carta d'identità così siamo sicuri che è ufficiale e tanto si dice carta canta, puntini puntini. Nome Luciano Riccardo, cognome Ligabue, nato da un sospiro o da un temporale, residenza, correggio, via, telefono, uno dei tanti, stato civile chi più ne ha più ne metta, altezza cosa vuoi che sia, occhi fanno quel che possono niente meno e niente più, capelli per fortuna sì, segni particolari tutti, professione professione non sto a leggerla qua sopra ma vi dico che è quella che dicono al mio paese, io al mio paese dicono che sono quello che canta invece di lavorare ed è una delle poche volte in cui il mio paese hanno finalmente ragione. Canto invece di lavorare da vent'anni cioè quindi ho cominciato un po' tardi quando avevo quattro anni per l'appunto ed è per questo motivo che ho cercato di recuperare molto in questi vent'anni pubblicando tante cose, l'ultimo di queste si chiama Arrivederci Mostro. Non è vero come sostiene qualcuno che il titolo mi è venuto in mente un giorno mentre mi facevo la barba guardandomi allo specchio quanto è piuttosto vero che all'interno dell'album c'è una canzone che sostiene che vivere e cantare invece di lavorare sono già di per sé un atto di fede.